ciao a tutti il mio nome è Gera oggi faremo questo vedere questo nuove favole ma prima di tutto abbiamo capito che c'era una favola del precedente che sarebbe questa andiamo sulla prima pagina e c'è questo plenfio il trifoglio protagonista molto bello e poi ci sanno dei personaggi la mamma eccolo questo è non vuol dire mamma visiti eleganti e poi ci sta tante cose belle la bibbia come te siamo in giallo signora bibbia l'ombrello semi pallone valigia vaso per piante tastiera piatto oggetti portabile valigia molto bello ok abbiamo fatto sulla prima pagina che rappresenta nuovi versionaggi sempre di questa favola molto bello andiamo avanti oggi faremo questo trio episodio 3 l'acqua e sapone davvero bellissimo questo disegno formare un pesce un pesce molto bello così viola ok andiamo avanti è questo posto davvero molto meraviglioso si può trovare nell'oceano e poi c'è la spiaggia e c'è poi c'è un sole che sollege davvero bellissimo poi sotto in acqua e c'era un pesciolino molto bello che si chiama frio e poi basso nella superficie dell'acqua e vide la spiaggia molto bello e prova a camminare poi il pesce sta in grado di camminare fuori dall'acqua era un pesce raro e unico e poi è contento perché sa camminare poi puoi andare quello che vuoi e respira anche nell'acqua bellissimo e poi questo pesce frio vide qualcosa e vide la città e anche bel panorama e va un'occhiata entra dentro la città e incontra una bambina di vestito gialla e poi c'è un pesce si avvicina su quello bagnato scivola e cade perché il pesce non sa camminare e poi frio il pesce guarda la bambina e la bambina si aiuta al sarci prende questo acquario la porta dentro il pesce davvero molto amichevole e la porta come se fosse un pesce domesticato va in giro una bella città molto bello e poi arriva fino a casa è vero molto bellissima e poi vicino a casa lo da porta in acqua nel vicino a casa che c'era l'acqua che sembrerebbe una piscina ok e poi il pesce frio e contento e si rilassa tranquillamente nell'acqua anche la bambina e poi è l'ora di fare merenda va a casa entra era una casa bellissimo poi lei inizia a pranzare legge la bibbia di si smondigiava è un bel pomeriggio e poi chiama per parlare con i suoi genitori e anche quelli che hanno i suoi amici poi la bambina dà il cibo il pesce il pesce è felice contento perché la bambina è generosa gentile poi sta cercando di prendere cibo fuori di casa in giardino c'era delle verdure sono belli e il pesce va fuori il suo servizio dell'acqua della piscina vicino a casa vede un bel panorama e vuole fare un bel diretto e poi più prova a camminare per la prima volta di nuovo e riesce uscire fuori dall'acqua e poi è arrivato frio e la bambina è contente perché non avevo mai visto un pesce camminare così e poi si saltavano divertirono libero bellissimo e poi sono aggiuntati amici molto bellissime amiche mole e poi la bambina va a giocare in giardino e mentre pesce dorme molto bello poi durante una giornata di pioggia la casa comincia a bagnarsi un po anche tutti quanto la bambina abita la finestra che sta piovendo e vuole fare una bella passeggiata fuori prendere sulla spiaggia un'occhiata molto bello e va sulla spiaggia e vuole prendere le conchiglie perché vuole lei vuole giocare la bambina e poi sulla spiaggia nell'oceno in fondo trovo un calamaro davvero gigantesco elbide così in grandi così poi la calamaro e generoso vuole essere voleva giocare lascia via il cappuccio per la pioggia molto bene ora andiamo manchi poi la bambina prega che adesso aiuto anche che gioiava ha mandato un pesce poi questo pesce frio sente che la voce della bambina che ha pregato perché gioiava ha mandato e poi salta nell'acqua come si fosse un delfino che cammina sulla terra molto bello poi sta arrivando il pesce e la bambina prega chi di aiuto frio sa in grado di fare una bolle di acqua per protezione del polpo così non potrà fare niente una trappola per il polpo così rimane come ci fosse un acquario poi la bambina lo da di sapone perché ha detto la bibbia si fa tante cose bolle di sapone è molto bello molto bellissimi poi le sister forma e sister forma una musica di note lei adora fare la musica e poi usa la tercera un piano che fa suonare delle suoni musicie poi la bambina disegna un forma di pesce e poi il pesce entra su questo anello e ci si trasforma in un pesce viola pesce del vento bellissimo dell'aria e poi usa le bolle e si è in grado di usare i suoi poteri degli animali molto belli tanti pesci tanti bolle anche fare un tornato di acqua molto belli e poi alla fine il pesce sta in grado di pulire perché voleva fare pace con gli animali e fare amicizia così molto bello davvero bellissimo e poi la bambina che ringrazia il suo pesce che mi ha permesso armato e poi lei è contenta perché era il suo migliore amico speciale molto unico e porta a casa a livello intendo con il pesce poi i palestini pesci si saluta le favole continua ok spero che voi avete piaciuto questo video e io vi ringrazio se volete volete continuare alla storia datemi le domande se volete continuare e poi dovete iscriverti al canale perché farò lo speciale del video quindi raccomando sono sempre con te canale di era 10 youtube molto bello quindi che spero che voi avete piaciuto e noi siamo nel prossimo video ciao